amici di cultura pop buongiorno bentornati a questa nuova puntata di legomania questa volta sono davvero in ritardo mostruoso me ne scuso ma c'è stato un bel problemino tecnico purtroppo sembra che la tecnologia mi remi contro quando devo fare questa diretta funziona sempre tutto bene tranne l'ultimo secondo dunque oggi vi proponiamo questa cosa come vi dicevo la puntata scorsa è uscito questo nuovo set che assomiglia molto alle dumb buggy tamiya e roba del genere gig nico anche degli anni 80 che come all'epoca nonostante sia un set lego è telecomandato con il nuovo sistema control plus cioè quello che interfaccia il pacco batterie con i comandi con lo smartphone vi proponevo la volta scorsa di fare una sorta di frankenstein con i nuovi motori buiz per vedere di darci dentro con un po di velocità purtroppo ancora non sono arrivati quindi come proposta la volta scorsa direi che possiamo montarlo insieme così com'è così come viene fornito in commercio e poi quando arriveranno i motori vedremo di giocare un po insieme con questi nuovi dispositivi per contro e per compensare questa cosa ho pensato di darvi modo di confrontare questo set con sua nonna se vogliamo chiamarla così questo set che si chiama sunset cruiser 8676 del 2006 se non ricordo male era un periodo nel quale lego produceva questi set specificatamente progettati per andare in outdoor cioè all'esterno infatti il vano batterie è abbastanza sigillato che è qua sotto pochissimi elementi fintamente tecniche che si agganciavano a questa scocca radiocomandata in questo caso non telecomandata cioè non a infrarossi ma proprio onde radio con il simpatico telecomando come usava una volta quindi proprio con le leve per guidare e direi che dopo potremmo fare un bel confronto nel mente che costruisco mi installo l'app perché mi sono ricordato adesso di essermi dimenticato di farlo prima e niente direi che possiamo cominciare cambiamo subito inquadratura così riesco a muovermi un po meglio tanto la lascio inquadrata qui così potete dare un'occhiata faccio vedere anche il manuale con il foglio di adesivi che qui la fanno da padrone perché come usavo allora deve essere molto fluo molto visibile eccetera eccetera novità per questo set gli pneumatici realizzati appositamente versione un po da sterrato se vogliamo dire così vediamo se riesco a farveli vedere meglio da fermi perché quale immagine è in movimento vedete che sono belli tassellati potentemente alla fine del manuale ci sono i passaggi per collegare il pacco batterie intelligente che si chiama smart hub in via bluetooth al proprio smartphone fare il pairing e quali tipi di controlli si possono avere c'è avanzamento retromarcia sinistra destra ovviamente inclinometro se non sbaglio più tutta una varia serie di funzionalità di challenge di sfidi di conquiste eccetera eccetera ma le vedremo dopo quando avremo finito di montare il set e sarà il momento di controllarlo con il nostro smartphone bene la metto anche un po di tre quarti così si vede meglio lo sterzo allora adesso devo aprire l'app accendiamo il pacco batterie non so se lo vedete che lampeggia allora come funziona l'app sostanzialmente per ogni set che ha lo smart hub c'è il pannello di controllo questa è la prima che abbiamo montato insieme quando eravamo in redazione questo è stato il frankenstein che ha donato i suoi organi elettronici ed elettrici per motorizzare il land rover defender trovate tutte le informazioni per farlo anche voi semplicemente cercando sulla pagina web di cultura pop land rover defender o motorizzare defender questo mostro che prima o poi devo assolutamente decidere a montare perché mi affascina un sacco non vedo l'ora poi c'è questa che abbiamo montato oggi e c'è questo che è un set che prima o poi monteremo dall'anticipo scelto il modello da guidare ci sono anche le impostazioni per audio volume la lingua unità di misura perché chiaramente se fossimo in inghilterra magari o in america preferiremmo usare piedi e miglia meglio metri e chilometri e l'help leggi di marfi c'è da fare aggiornamento del firmware del pacco batterie acceleratore e sterzata sono a modalità joystick per cui semplicemente col pollice potrò guidare il vedete sinistra destra mi fa vedere che c'è il freno che blocca istantaneamente stato della batteria a quanto sta la carica completato finito ok adesso posso guidare ci sono anche degli effetti sonori vediamo se riesco a farveli sentire dicevo per guidare mi compare sul display la potenza avanti e dietro sinistra e destra bisognerebbe provarla su sterrato ovviamente anche se dicono di no è fatta per l'interno però dai sono contento che sono riuscito a farvi vedere questa cosa grazie per avermi seguito fin qui buon resto di giornata e alla prossima puntata ciao